Camila Ferranti non segue la Ternana ma noi siamo contenti lo stesso di averla incontrata in giro per Terni. Grazie, che carini che siete. Bene, bene, grazie. Sono venuta qualche giorno per Natale, sotto Natale, pre-immacolata. Quindi non sai che la Ternana ha pareggiato a Frosinone, ma te lo diciamo noi? No, non lo so. Sapevo che c'erano stati dei grandi risultati. Conosco, cioè conosco, nel senso, so anche chi è il presidente. Sono informata, però non so grandi cose. Però sai che tra due partite c'è il derby? A questo non lo sapevo. Chiederò un invito, forse... A Perugia, eh, d'avviso. Allora, no, mi sa di no. Fuori casa forse è meglio di no. Comunque, ci ha fatto piacere incontrarti e ti auguriamo buone feste. Ha fatto piacere anche a me e allora a questo punto faccio un grosso in bocca al lupo alla Ternana e sono stata grande tifosa, poi non essendoci, insomma, un po' ho perso di vista la situazione, però mi informerò. C'è pure la felpa adatta, c'è pure la felpa adatta, ve lo sapete questo pareggio a Frosinone. Secondo me sono tre punti buttati via. Si era messa bene che ci avevano squalificato quel giocatore, però vabbè, dai, ci stanno. Un puntarello portato a casa fa sempre comodo in Serie B. Quindi tra due settimane che succede? Gli favo sempre capito così, come l'anno scorso. Sempre uguale, diciamo, perché si è allarcato, perché si è ristretto. No, no, sono forti però, eh. C'hanno una bella squadra competitiva, però noi siamo più forti. E anche sui spalti, capito? Adesso è colpo d'occhio a Frosinone, a Tocene. Ohia, ohia, hai visto che ho avuto la sciarpata? Che bella sciarpata. Questo pareggio a Frosinone come lo vedi? Non sono... non seguo la Ternana, mi spiego. Vivo che è il primo beccavo subito. Non è di Terni. Sono Ligure. E non seguiamo la squadra, purtroppo. Dovresti un po'... Dovrei un po', però vivo fuori, non riesco a fare due cose insieme. Ligure, Sampdoria, Genova, Spezia. Mi spiace, non seguo. Della. No, niente. Un giorno posto, scusate se disturbo... Sulla Ternana, il punto a Frosinone, lei come l'ha visto? No, non è... Non mi sento, però. Certo, certo. Quindi punto guadagnato. Eh, ci mancherebbe. Eh no, l'allenatore non era tanto contento. Ebbè, ma è tutta una tecnica. È tutta una tecnica. Sì, sì. Ternana Frosinone, io l'ho seguita. Bene, mi sembra, no? Che abbia giocato. Sì, sì, mi sembra bene. Mi sembra. Potrebbe essere sfruttata meglio la superiorità numerica, secondo me? Ma penso che alla fine il risultato del pareggio sia stato giusto, nonostante la superiorità numerica. Mi è sembrata una partita molto equilibrata. Derby è fiducioso. Assolutamente, certo, certo. C'è lei che dici, un punto guadagnato e due punti persi. Ma secondo me il punto, al risultato dei fatti, è guadagnato. Perché, diciamo, il Frosinone è un'ottima squadra, competitiva, una squadra che fa la serie B da molti anni. E anche con un uomo in meno, comunque, ha dimostrato che effettivamente era un osso duro. Lucarelli ha detto, possiamo lottare solo per la salvezza, così. Condivido le parole di Lucarelli, perché effettivamente questa squadra, per fare il salto di qualità, secondo me, ha bisogno, forse, di qualche uomo in più, di categoria. Dicola di fiducia, ciao. Un punto guadagnato e due persi. Ma penso, per come stavamo messi, comunque un punto guadagnato. Il Frosinone è una bella squadra, a noi ci mancavano dei punti cardine, anche considerato il centrocampo, non solo falletti. Quindi, diciamo che non abbiamo rischiato il secondo tempo. Se erano in undici il Frosinone, probabilmente, avrebbe portato a casa una squadra, una bella squadra, insomma. Possiamo lottare solo per la salvezza o magari fare qualche sogno in più? Secondo me possiamo lottare per i play-off, perché la squadra c'è, i punti li facciamo, bisogna vedere se incameriamo quelle vittorie o quelle sconfitte. Però, secondo me, la salvezza è tranquilla. I play-off, tra le ultime play-off, si potrebbero giocare. Poi, certo, se arrivi ultimo play-off, fai una partita a due, perché è difficile. Però, insomma, secondo me ci possiamo arrivare. Questa partita arriverà a due settimane. Quella vera, quella che purtroppo si combina con la Coppa Italia, se non sbaglio. La settimana dopo, diciamo. Ah, la stessa settimana. Prima la Coppa Italia, quindi, vabbè, faremo giocare, non so, le riserve, perché in Coppa Italia, perché giustamente non è che possiamo fare in fortuna a qualcuno stancare, insomma. Quindi, penso, farà giocare riserve e poi ci giocheremo tutto a Perugia. Allora, un punto guadagnato. Però, secondo me, potevamo prendere anche tre punti. Bisognava tirar fuori qualcosa di più. Eh, certo, però, con un uomo in più, secondo me, dovevamo approfittare la situazione. Ma secondo te ci possiamo soltanto salvare, come ha detto Lucarelli? Eh, Lucarelli adesso, secondo me, non perché lo voglio dire io, ma secondo me si sta parlando sui specchi, nel senso che non sa manco lui. Cioè, toccava vince, toccava vince. Cioè, secondo me toccava vince. Il derby che tocca fa? Eh, toccava vince, che tocca fa il derby, che volevo fare? Non volevo vincere il derby? Un punto a Frosinone come l'avete? Buono, ottimo, decisamente sì. Abbiamo mosso la classifica, muovere la classifica in serie B è importante. L'importante è non perdere, noi non abbiamo perso, anche se potevamo fare qualcosa di più. Ma io sono soddisfattissimo del punto a Frosinone. Il resto è un pareggio a Frosinone, un pareggio a Lecce, insomma, piazze... Abbiamo fatto due bei risultati, due risultati con due squadre importanti che mirano a vincere il campionato. Noi dobbiamo avere, miriamo a una salvezza, una salvezza tranquilla e sicura. Ecco, tutto quello che dobbiamo pensare noi. Gianluca Campini, allora, non parliamo dell'Arnese, ultimamente tra l'arbitrage, un macello, insomma, sta andando benissimo. Ma vabbè, noi su questo non ci guardiamo più, guarderemo a testa bassa fino a fine del campionato, quindi siamo convinti dei nostri mezzi per l'Arnese. Ma questo punto della Ternana invece a Frosinone, un punto guadagnato o due punti persi? Ma innanzitutto, quando si muove la classifica è sempre un punto guadagnato, secondo il mio punto di vista. Ho sentito il grande mister, che è il mister Lucarelli, che ovviamente voleva la posta piena, lo comprendo. Però, secondo me, stanno lavorando molto bene, perché sia il mister che il direttore sportivo, che Paolo Tagliamento hanno costruito, insieme a Bandecchi, una bella società, una bella organizzazione. Sono convinto e ci leveremo delle grandi soddisfazioni da qui in avanti. Quindi un punto guadagnato. Grazie, buona fortuna per l'Arnese, forza Ternana e forza Arnese. Assolutamente sì, un abbraccio e tanti auguri e buon Natale a tutti. Ciao.